Se segui Gesù, felice di essere attratto da Lui e lo annunci non per obbligo contrattuale di battezzato, allora gli altri se ne accorgono. Alla missione non servono burocrati o funzionari. La Chiesa è già morta se si affida alla propria efficienza anziché alla grazia di Dio, avverte Francesco. Messaggio alle pontifice opere missionarie in sostituzione dell'udienza fissata oggi, festa dell'ascensione, è cancellata a causa pandemia. L'occasione è buona comunque per ammonire gli apparati ecclesiastici ossessionati, scrive il Papa dal dar gloria a se stessi, magari con le bolle mediatiche in cui far risuonare i propri slogan. La predilezione per i poveri, rammenta poi, non è mai facoltativa, evitando però aggiunge forme di assistenzialismo che alimentano anche nella Chiesa il clientelismo parassitario. In dieci pagine c'è spazio anche per denunciare le cordate ecclesiastiche di amici e compagni e il neocolonialismo di chi propone il Vangelo e impone certe forme culturali. Solo con umiltà invece si annuncia il Vangelo. Gesù risorto, scrisse Sant'Agostino, citato qui dal Papa, apparve agli apostoli, non a chi lo crocifisse. Era più importante infatti insegnare l'umiltà agli amici che rinfacciare la verità ai nemici.